bello a tutti fourniters benvenuti su youtube eccoci qui in questo video per fare le nuove missioni di oggi settimana duele viceversa i carichi duele viceversa andiamo a fare questa raccogli una mitragliatrice viceversa e un fucile viceversa in una partita singola allora arriviamo qua vediamo sempre se c'è il carro armato si eccolo la e proviamo a fare del loot quindi come facciamo per fare del loot buttiamo giù tutti e due questi palazzi iniziamo questi piccolini e poi proviamo anche con l'altro più grande se non troviamo nulla in genere qui esce molto molto loot quindi può essere molto meglio dopo questa raccogliata veloce ecco dobbiamo fare attenzione iniziamo le ragnate le vittime con un po' di tempo ok ok questo è distrutto questo che appunto è distrutto anche questo allora vedete quanto loot andiamo a dare un'occhiata va bene di qualsiasi live ecco la mitragliatrice eccola qua e ora andiamo a cercare il fucile non è detto che ci sia va fatto nella stessa partita magari c'è non lo vedo un'altra mitragliatrice proviamo a raccoglierla prima ho girato molto ma in un'altra partita mi mancava la mitragliatrice non ero unuto qui ok niente non c'è buttiamo giù proviamo a buttare giù anche perché l'armata è quello qua proviamo a buttare giù anche il palazzo grande si giusto do un'occhiata ma non c'è chiudiamo un po' quel cannone eccoci questo è quello che non ci volevo ma sappiamo che ehi allora ah ok queste ragnatele che ci danno un po' di fastidio e le scale pure un po' fastidiose ok vediamo un po' se ci riusciamo ora dobbiamo stare attenti a non toccare il dottor strange perché se non puoi lui si arrabbia e ci comincia a sparare allora intanto sta per partire la tempesta quindi dobbiamo un po' provare ad accelerare ok dovrebbe mancare molto ecco l'abbiamo beccato maledizione ecco l'abbiamo beccato ecco le scale però dicevo sono delle bestie allora ok andiamo di perletta I자 vediamo se troviamo il fucile, ha ancora una mitragliatrice allora niente da fare, mi sembra che di non vederlo ok qui non c'è, non c'è, non c'è, ok in questa partita diciamo che non l'ho trovato, però intanto abbiamo già un mitragliatore, certo siamo stati sfortunati perché, ah eccolo, eccolo qua il fucile che ci abbiamo trovato, viola e quindi la missione questa è fatta, avete visto? quindi basta venire qua, basta venire qua diciamo, potete provare a venire qua, è un metodo un po' più veloce, ma comunque potete trovarlo in giro per tutta la mappa ok se il video vi è piaciuto vi chiediamo un bel vi piace, se vi va e ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale e mi raccomando condividete il video con i vostri amici e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere gli aggiornamenti del nostro canale e i nostri video un saluto a tutti, ciao! ciao!